Ciao a tutti ragazzi qui c'è ancora un altro, siamo di nuovo qui sull'arcore e stiamo molto di corsa perché Ho già perso 4 cosciatte di cibo, stanno scendendo e come potete vedere la cassa del cibo contiene 8 funghi che da soli non ci possiamo mangiare Qua non c'è un cazzo, cioè almeno io non ho visto niente, quindi è un gran bel casino Quindi io direi che potremmo raccogliere il grano, far fare sesso ai vari animali che abbiamo E io ho un ritardo, ho fatto un coso opposto per raccogliere il grano e lo sto raccogliendo a mano Cioè proprio il genio della lampada di Aladino Ci mangiamo un po' di grano, facciamo fare sesso a queste belle pecorelle che da adesso per chi non lo sapesse ci danno il cibo Come stiamo vedendo funziona abbastanza, l'unico problema sarà sempre questo Questo qua è un problema, che rimangono qua e lì Qui si può evitare mettendo tutti dei blocchi sopra e volendo si potrebbe anche fare Però per quanto la useremo non ci voglio perdere altro tempo per sta farm alla fine perché non penso che la useremo moltissimo A trovare che bello che va via tutta l'acqua insieme, che belino Allora intanto andiamo da mangiare alle pecuri Ciao pecuri, 1 e 2, eh solo 2 possono trombare, mi spiace, 3 non si fanno le cose 3 E poi 1 pollo con 2 pollo Ah fate tanto amore tutti quanti Tanto amore Io qua vedo un uovo Fammi raccogliere di uovo Ah porca troia Ho preso anche di uovo Eh non è uscito Puccino Cazzarola Ok Quando abbiamo finito di dir minchiate Possiamo andare molto velocemente, molto velocemente A ripiantare tutto il grano Intanto ripiantiamo il grano, vi dico un paio di cose Eh come vedete ci mette un po' da arrivare qua, però frega niente Tanto abbiamo il tempo, abbiamo il tempo Intanto ripiantiamo il grano, vi devo dire un paio di cose Ovvero Eh non è che non mi cambio mai se qualcuno se lo stesse chiedendo Ma sto facendo i video appunto in anticipo Perché ehm Come vi ho già detto andrò a Praga Quindi sto reccando un po' Abbiamo la simulazione di terza prova Che non so se lo sapete Ma è una cazzo di verifica più difficile che avrete in tutta la vostra vita Penso prima dell'università Ed è una cosa brutta E in più ci hanno messo tante altre verifiche insieme Tutte vicine E quindi sto nella merda fino al collo in poche parole Di ciò sto reccando un po' Tanti episodi Delle varie cose Tutti insieme quando riesco Perché Ehm Ho poco tempo E quel poco tempo Cerco di fare video Cerco di farne tanti O portarne il più possibile sul canale Perché non voglio che rimaniate Senza tutti questi bei video Intanto facciamo i panini I panini D'altro questo raga È il mio pro memoria Cosa dobbiamo fare? Cibo Velocemente sulla sabbia Lo so però raga Non vorrei perderci troppo tempo A prendere la sabbia Eccetera Perché alla fine Piantandone tante Le facciamo abbastanza in fretta lo stesso Quindi Non ce ne serviranno Penso Miliardi Cioè Milioni si Ma miliardi Non penso ci serviranno Ehm E comunque Le sere con il buon Jumpy Tech E il buon Emerald Allora Con il buon Jumpy Tech Appena lo becco Recchiamo 700 episodi Giuro Perché Non riusciamo a trovarci Lui il pomeriggio scappa Va a fare le cose Cose Non so che cazzo fa E poi c'è la sera Io la sera non ci sono Ed è un cazzo di casino E quindi io odio tutti E li voglio picchiare Mentre il buon Emerald Il buon Emerald Ha un grosso problema Tipo La scheda madre del buon Emerald Ha deciso di fare tipo C'avete presente Quelli dell'Isis Che fanno Alla Ok Vare esplodono Ecco Ha fatto la stessa cosa Quindi il buon Emerald È senza un computer al momento Infatti salutiamolo E speriamo che Sistemi al più presto Il tutto Così possiamo fare tanti altri video Però per il momento Non può fare un cazzo E io ho appena realizzato una cosa I libri Come li faccio Sono le pelli delle mucca Le pelli delle mucca Oh che porca troia Eh ok Questo potrebbe essere un problema Questo lo mettiamo qua Perché è una cosa abbastanza importante Qui stavo cuocendo Delle cose Sì Frega niente Potremmo andare però A vedere se troviamo Una mucca Oppure esplorare Di là Di lì Di su Di giù Di giù Di là c'era un dungeon da guardare Ma ci guardiamo dopo Che andare nel dungeon È sempre una cosa abbastanza pericolosa Potremmo anche Eh Quante cose che dobbiamo fare Rega Io farei Andiamo a cercare le mucche Allora se le troviamo Il grano ce l'ho sì Ho due uova Ho due uova Andiamo a tirare due uova là dentro Io direi di prendere Andare in una direzione E sperare di trovare due mucchine Se le troviamo Siamo tutti felici Intanto ho un botto di roba Che non dovrei avere Ma fa niente Troviamo due mucchine Siamo tutti felici Ce le portiamo qua E possiamo farci Tutte le ebrierie Per fare tutti gli incatesi Se ne vogliamo E se siamo anche al 30 Ma vabbè I livelli non li perdiamo Perché se li perdiamo Vuol dire che è finita la serie E quindi non mi interesserebbe Molto di perderli Però sta durando abbastanza Che ne dite Ci siamo già A 16 episodi Questo è il 17esimo Se non erro Perché io ho la memoria Proprio Delle elefante Che ce l'hanno lunga Gli elefanti E non mi ricordo Un gazzo Però 16 episodi E tipo il 100% Di episodi in più Rispetto a quelli Che mi aspettavo Io aspettavo di fare Tipo 7-8 episodi E poi morire Malissimo E invece No Sto resistendo Siamo andati anche nel nether Siamo vivi Il che è bello Anche perché qua Abbastanza ormai Siamo a posto Abbiamo una buona armatura Però dire che Da ricercarci dei diamanti Sarebbe molto bello Molto bello Là c'è un maiale Io voglio le mucche Voglio Cazzo Le mucche Che belle Le mucche E Si rompiti quando vuoi Rompiti quando vuoi Fai un po' il cazzo che vuoi Va bene Vabbè Prendiamo anche un po' di funghi Che ne dite Perché i funghi sono buona pappa È scomoda Però Sono qua Sono facili da prendere Io direi che li possiamo prendere Un attimino Tanto che non si sa mai Mica che torniamo Il grano non sarà cresciuto E ce la pigliamo in tarculo E non è bello Ciao coniglietto Ciao Che tenero che sei Muore Muore Oh buono coniglietto Buono coniglietto Scava tutto questo cazzo di fungo Ah ok Tanto non so se avete notato che Le news così Le dico sempre in questa serie Perché Diciamo la serie Tra virgolette principale del canale Quella che mi diverto di più a fare Anche se faccio pochi tagli Poco editing Perché Cioè voglio Che tra virgolette si veda tutta Tutta Pensavo poi magari di fare Un'altra serie Non so Però prima devo Concluderne un po' Perché c'è troppo in ballo Più tecnica Più figosa Costruzione giganti Però è molto difficile E quindi Penso che Non so se la facciamo Non so se la facciamo Cane 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 No Non scappare Non ho le ossa Non ho le ossa Cane No Io voglio il cane Voglio il cane Cagnolino Non guardarmi così Ricordati di me Tornerò a prenderti Giuro Giuro amico Giuro Giuro Tra l'altro Abbiamo ancora trovato una mucca Che cazzo è Non è che siete in via L'estinzione No perché se no Chiamo il WWF Gli dico che Dovete restare qua con No questi sono piccoli Questi non mi danno La pappa vero Aspetta un attimo Che provo A farti la bua Un attimo E no vedete Se sei piccolo Non me la dai la pappa Fottiti Tu sei piccolo E non ti killo Non ti killo Perché ti voglio bene Tu invece sei grande Che tenero grande Cresciuto e forte Mori E non droppa un cazzo I conigli sono degli animali Di merda ragazzi Sono degli animali Ne ho avuto uno Tra l'altro Che poi è schioppato Ma sono degli animali Di merda Lo odio Basta Basta Odiamo i conigli Le pecore qua Possiamo anche uccidere Perché tanto a casa È inutile portarle Ce le abbiamo Questa è tanta pappa gratis Io direi che Tanta pappa gratis È sempre buona Finché due belle costolette Alla braccia Che sono sempre buone Guarda quante Oh abbiamo pappa Per un po' Raga Un bel po' Di pappa Questa cosa Di mettere la carne Nelle pecore L'apprezzo un casino Sinceramente Perché Cioè Perché le pecore Non dovevo andarti la carne Non l'avevo capita io Questa cosa E giustamente Hanno detto Minchia il buon knowledge Pensa così Noi della mojang Dobbiamo metterci La carne Nelle pecore E quindi L'hanno fatto L'hanno fatto Tanto raga Vi dico un piccolo spoiler Quando tornerò Dalla mia gita A Praga Che sarà la cosa più bella del mondo Spero E vi farò anche il vlog E tutte le cazzate cose Perché mi avete chiesto E sinceramente anche a me Ho una voglia assura Di fare questo video E lo faremo Dopo inizierò Una serie Su più canali Però è una cosa Abbastanza complicata Con due persone Abbastanza famose Una è Metal TNT L'altra Non si sa ancora se accetta Quindi non ve la dico Non ve la dico L'altra E qui c'è una cazzo di caverna In cui entriamo subitissimo Perché YOLO Abbiamo le torce YOLO Oh cazzo Uno zombo Io vado dall'altra parte Vaffanculo Perfetto Torniamo dallo zombo Ciao zombo Eeeh Mandate dove in realtà E quindi inizieremo questa serie Minchia quanti Wow 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 Aia aia Quindi inizieremo questa serie Su più canali Con le mod Con le mod Campo che Eeeh Non conosco molto bene Quello delle mod Cioè ho usato Minchia oh Cavernone enorme Veramente Campo che non conosco molto bene Quello delle mod Quindi Magari chiederò Cioè Gli altri ragazzi Le conoscono Gli altri Bei giovinotti Con cui farò la serie Le conoscono abbastanza Quindi Penso che andremo abbastanza bene Però Io veramente zero Quindi magari chiederò Molto A voi A voi Di darmi dei suggerimenti Perché Io penso che voi sappiate Usare le mod Un villaggio Quello Quello Un cazzo di villaggio È notte Regà È notte Io sono in giro Trae anche fare un letto Perché tanto Del respawn Non me ne frega niente Perché Se muoio Muoio Una piccola Una piccola caverna Calda e accogliente Sì dai ragazzi Ci potremmo fare il letto Dormire Saltare la notte E Sti cazzi Ma quante pecore ci sono? Ho 33 di carne Ragazzi Oh Ottimo Potremmo fare il letto Saltare la notte E poi tornare A fare Le cose sessuali Con quel campo Di roba là Che cazzo ti credi di scappare Madonna quanti mob No no regà Andiamo subito a prendere del legno Subito Subito Corre Corre Prendere il legno Facciamo il lettino Facciamo tanta nanna E poi andiamo a vederci Quel villaggio laggiù Perché è una cosa molto bellissima Che cazzo ti credi di scappare 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 Che cazzo ti credi di scappare